ciao a tutti ragazzi oggi video del secondo giorno e si sono già presentate le prime difficoltà sto guardando il mio ragazzo comunque abbiamo avuto delle difficoltà con la connessione tra l'altro sto girando dalla telecamerina interna dell'iphone quindi scusatemi anche il video di oggi non sarà super di qualità ma prometto che i prossimi giorni mi impegnerò abbiamo avuto una giornata piena siamo stati un po' in giro poi qualche problema adesso con la connessione quindi questo video arriva molto tardi ma mi sono promessa appunto di registrare ogni giorno e quindi lo sto facendo nonostante ormai sia sera tardi praticamente e niente ci tenevo oggi semplicemente collegandomi anche al fatto che appunto la giornata di oggi è stata un po' incasinata e non sono riuscita a girare il video odierno come avrei voluto volevo parlarvi un po' di uno dei tanti motivi per cui ho deciso appunto anche di fare questi tipi di video che è proprio la questione del perfezionismo ne stavo parlando anche oggi con il mio amico di master Gigi Gigi sei contento che ti sto finalmente citando in un video visto che stamattina sei lamentato che non lo cito mai alla fine uno dei motivi per cui ho deciso di fare questi mini video quotidiani è anche un po' per andare contro la mia tendenza diciamo ad essere ogni tanto un po' troppo esigente un po' troppo perfezionista ad esempio quando appunto faccio i video su youtube so che non sono assolutamente perfetti appunto perché l'attrezzatura e il resto per adesso è quel che l'è come diciamo noi ma di solito ci impiego anche molto tempo magari a girarli a montarli perché vorrei che ogni dettaglio fosse perfetto insomma cerco sempre di studiare tutto nel minimo dettaglio se qualcosa non mi piace faccio fatica ad accettarla e andare avanti quindi il lavoro diventa molto lungo a volte anche inutilmente decidendo di girare questi video quotidiani spontanei alla fine per me risulta anche un esperimento per appunto creare dei contenuti molto easy senza troppe pretese senza appunto tutte queste fisse di essere perfetta fare dei video visivamente perfetti insomma molto più naturali molto più spontanei perché credo che alla fine certo è sempre importante cercare sempre di fare del proprio meglio e curare i propri lavori anche nel dettaglio questo è importante sia anche per i progetti in università sia per poi i progetti sul lavoro però a volte bisogna anche imparare semplicemente a fare del proprio meglio e non preoccuparsi eccessivamente di quelli che sono appunto i piccoli dettagli a me sta piacendo girare questi video più più easy spero che anche a voi insomma faccia piacere guardarli quindi niente visto che è tardi oggi video molto veloce molto breve però spero di avervi lasciato anche oggi come sempre un piccolo spunto noi ci salutiamo ci vediamo nel video di domani finalmente andiamo a nanna così anche Ale è contento e io mi auguro comunque che abbiate passato un buonissimo sabato che vi siate divertiti e niente ci vediamo domani col prossimo video ciao